Il rinascimento campano passa anche dalle strutture sportive, il rilancio regionale dello sport passa anche da questo e non è un caso che 4 città su 5 del territorio campano hanno presentato il progetto di riqualificazione delle strutture sportive cittadine. Proprio ieri a Comune di Avellino l'architetto Zavanella ha presentato il progetto semi-definitivo che riguarderà l'operazione di restyling dello stadio Partonio Lombardi di Avellino, un'operazione moderna dell'architetto dello Juventus Stadium e dello stesso studio che si sta occupando dell'opera di riammodernamento dello stadio Maradona di Napoli con la battaglia tra comune e club per comprendere se potrà esserci un restyling o un nuovo impianto sportivo in un comune del napoletano. Due progetti a carico dei privati, da un lato il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis e dall'altro Angelo Antonio D'Agostino, presidente dell'US Avellino. Nel mezzo si inserisce anche la Salernitana, o meglio la regione Campania, pronta a finanziare il progetto con fondi pubblici di riammodernamento dello stadio Arechi per un costo di 103 milioni di euro, progetto nel quale è inserito anche il restyling del Campo Volpe adibendo la stadio temporaneo. Senza dimenticare il progetto della Casertana e del suo presidente D'Agostino, da non confondere con quello dell'Avellino, che a giugno ha presentato il progetto definitivo per il nuovo pinto da un costo di 51 milioni di euro, tutti privati, senza partecipazione del pubblico. Insomma, il rinascimento campano e il rinascimento dello sport nella nostra regione che passa dalla lungimiranza degli imprenditori privati, capace di scommettere in tale ottica nel rilancio dello sport.